Il movimento operaio al momento si trova in mezzo al guado. La politica ignora le istanze del mondo del lavoro e degli oppressi. Secondo lei abbiamo bisogno di un nuovo partito e se sì, come dovrà essere strutturato? Ritiene che sia ora di abbandonare una dicotomia superficiale destra-sinistra? Sì, credo che l'economia destra-sinistra non abbia più da non so quanto tempo significato, nel senso che destra e sinistra storicamente erano altre cose. Poi per un certo periodo di tempo diciamo che la sinistra è stata sostanzialmente la socialdemocrazia, almeno qui in Europa. Quindi direi che questa dicotomia in realtà non esiste, è una dicotomia legata a problemi. Qui in Italia per esempio per 20 anni c'è stato solo Berlusconi sì e Berlusconi no. Naturalmente il centro-destra era più, sui costumi, non so, magari più, come possiamo dire, più tetragona, certi discorsi su certe libertà, il femminismo, i gay, gli immigrati eccetera. La sinistra invece era più accumulante su questi temi, ma voglio dire per quel che riguarda le politiche, soprattutto la politica economica e la politica estera, sinceramente non riesco a vedere delle grandi differenze. C'è stato e insisto, c'è stato un momento, insisto perché l'abbiamo parlato nel blog e per un momento, conflitti e strategie, per un periodo qualcuno ha pensato che volevamo quasi diventare berlusconiani. Semplicemente abbiamo preso atto che per i suoi interessi tra il 2003, agosto del 2003, quando Putin andò in Sardegna tornando da Libia e Algeria e fece determinati accordi, per conto anche della Gazprom, con Legna eccetera. Ecco, tra il 2003 e il 2009, quando mi pare nell'autunno Berlusconi si recò da solo, o credo una persona di accompagnamento da Putin, non so cosa si sono detti, ma immagino che abbia detto che non poteva più evidentemente fare nulla e difatti credo che dal 2010 in poi Berlusconi sia stato sostanzialmente un complice, con tutta una serie di adattamenti, di furbizie eccetera, ma un complice delle svolte che ci sono state, non credo affatto, attualmente hanno fatto tutta una grande pantomima, è stato scalzato da Napolitano tramite Monti e poi di letta eccetera, ma insomma in realtà non è che si sia molto opposto a questo essere scalzato e anche, ripeto, sulla faccenda libica che tipica è stato attradito tutto e tutti con tranquillità, perché evidentemente non poteva più farla, però è vero che c'è stato un periodo in cui, credo anche per i suoi interessi, ha favorito quegli accordi Eni, Gaspun eccetera, il problema del South Stream, per cui sembrava esserci un qualche movimento, insomma si è mostrato, ha mostrato la corda poi, ripeto, negli ultimi anni l'ha mostrata completamente, ecco, questo per quel che riguarda destra e sinistra, per quel che riguarda il Movimento Operaio, devo dire che secondo me il Movimento Operaio è morto nell'ottobre del 17, quindi perché è morto diciamo come fenomeno propulsivo, come quello che si credeva già potesse attuare una certa trasformazione del capitalismo eccetera, ma in realtà poi è accettato, è accettato perché pare che fosse conveniente per tutta una serie, per come si strutturava questo movimento nei partiti operai, i cui vertici fanno parte dei dominanti in contrasto con altri gruppi dominanti che invece hanno radici nell'imprenditoria o radici in altri luoghi, nelle professioni, non so, comunque ci sono tutta una serie di gruppi, anche senza arrivare affatto al corporativismo, anzi senza assolutamente arrivarci, ma ci sono gruppi di vertice che sono gruppi dominanti anche quelli che dicono di rappresentare gli oppressi, l'acamusso è un elemento dominante tanto quanto Squinzi, direi tanto quanto Marchionne, fa parte di un gruppo di vertice che lotta contro altri gruppi per una serie. Ora questo problema non è solo di oggi però, è un problema ormai antico, perché l'intuizione che ebbe Lenin quando disse, parlò, oggi la rivoluzione si sposta ad Oriente, perché le masse d'Oriente erano, secondo lui, che era un po' culturalmente eurocentrico, sono politicamente arretrate, ma politicamente avanzate, mentre il movimento operaio dei paesi capitalistici di allora, lui diceva, è culturalmente avanzato e politicamente arretrato. Insomma, quell'intuizione voleva significare che la spinta di trasformazione, che comunque non era la trasformazione verso il socialismo, ma in ogni modo, la spinta di trasformazione, la spinta più radicale, si spostava e si è spostata in effetti verso l'est. Il movimento operaio dei paesi capitalistici avanzati qui in Occidente è sempre stato all'interno della riproduzione dei rapporti di questo sistema sociale, con la formazione, ripeto, di partiti e di gruppi di vertici di questi partiti, che sono gruppi dominanti in conflitto con gli altri. Ecco, questa è la mia idea, quindi io da molto tempo non parlo più di movimento operaio, poi insomma, di quelli che rappresentano gli oppressi, per carità. Si è visto anche nel terzo mondo, le masse oppresse del terzo mondo, da chi sono stati in fondo rappresentati, da gruppi che poi sono portati, anche i palestinesi, più oppressi dei palestinesi li abbiamo visti, ma io credo che dentro Hamas si siano creati già dei gruppi di vertice di un certo tipo, che non è a caso, non è solo Abu Mazen, via dicendo, che fa trattative con gli occidentali, oggi anche Hamas si arrangia a suo modo, quindi la questione ancora una volta deve essere reimpostata, proprio anche teoricamente e ovviamente dal punto di vista pratico, in modo molto diverso da quello che si pensava secondo le vecchie ideologie, il vecchio contrasto famoso, capitale, lavoro, non credo che funzioni proprio più, questo è la mia opinione.